Buongiorno, buongiorno, buongiorno Aspettate, voglio ripenere l'altro di cosechino Quanto c'è? Anch'io? Daniela, assaggio che buono Daniela Buongiorno, buongiorno Buongiorno Salute Buongiorno 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 colorata caffè dai forza che il sorfeggio è un po' invece di lui guarda che io dopo il giorno la pratica ma no ma è anche mangiato meglio su, la volta scorsa era a digiuno ancora meglio i numeri bella bella a me piace più il ciondolo il ciondolo è stupendo cioè ma neanche la leggenda di cerebritaccia c'era una serie di discussioni su chi diceva che ti piaceva, chi no a me piace più il ciondolo scusere da bene ma lui lo sapeva che io anche lui lo sapeva ma ti ricordi famosa l'altra volta che mi hai fatto vedere il film si sembra la vaccina del tata e vediamo alla salute alla salute auguri beni oi 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 Ah, un'altra cosa, va a tagliare freddo, eh, se è caldo, eh. Ti ricordi che c'era freddo, eh? Ti ricordi, Melli? In frigorifero. Ok, Melli, in frigorifero. Non c'è fammi di zingare, non c'era un frutto. E ce l'ho fatto io frigorifero. Ah, non c'è nulla. Io non c'è l'acqua. Nio dal anche. Noi l'abbiamo piolce, eh. L'ho creato l'altro molto. Dove c'era il bozzo? No, ma tarevamo tanto. Mi può gelarino. Non lo voglio ancora. Minut e il problemio. ma è 10 grazie